Siamo di nuovo qua! Di nuovo alla guida! Oggi il lago di Resia! Sì! Andiamo a vedere quel campanile sommerso! L'acqua! Sì! Il mistero di Cologne! Il mistero! L'acqua! Sì! Il mistero di Cologne! Il mistero di Cologne! Forse ci siamo? Ci siamo! Ci abbiamo messo una vita! Ci abbiamo beccato un sacco di traffico! Ci vuole del tempo! Ci vuole del tempo! È tutta guidata! Tutti i tornanti! Sì! Però ci siamo! Ci siamo! C'è la pena perché ci sono dei paesaggi mozzafiato! Bellissimi! Sì! 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 Si travede un po' il finestrino! No! 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 Forse no! No! Perché fa il riflesso! Comunque... Ci siamo! Ci siamo! Uh! Che bello! E adesso giro la camera e vi faccio vedere! Ecco! Si intravede! Galleria! Ma perché io ogni volta che riprendo... Becco sempre le gallerie o le buche! Me lo spieghi? Che pazienza! Abbiamo già visto il campanile! Bene! Possiamo tornare indietro! Oh! Dai! Eccolo! Mamma mia però! Mi hanno sacrificato un paese per fare la diga! Ma ecco! Che caos! Adesso dobbiamo parcheggiare! Sì! Auguri! Va bene! Ma tu hai sempre fortuna per il parcheggio! Eccoci qua! Mi hanno trovato il parcheggio! Mi hanno avuto fortuna! Mi hanno trovato il parcheggio ma immaginavamo! Noi troviamo sempre il parcheggio! Lui lo trova sempre il parcheggio! Io lo trovo sempre il parcheggio! Ci sono 19 gradi! E' bellissimo! Infatti io ho già messo il giubbino! Si sta benissimo! Lui sta bene! Io invece ho un freddo cane! E niente! Adesso proseguiamo! Andiamo a vedere un po' questo famosissimo campanile sommerso nel lago! Sì! E intanto ci facciamo un po' gli occhi con questo bellissimo panorama dove ci facciamo vedere un po' di cose insomma! Ciao! C'è l'interno del luogo del suo Polo! Sì! Non si chiara! Si vuole! Non hai resistito! Sì! 16 gradi! Dai! Eh, 16 gradi! Dio dai! Il campo è perché ti ha aria! Eh! Quindi tirando aria si sente un po' di questo! freddolona non sono solo io no vabbè io non sono freddolona appunto però qui è freddo un po' più freschino appunto appunto sì sono bella così vicino forse un po' sfoccato è bellissimo qui com'è? più freddo del solito è freddo è ghiaccio allora ci dobbiamo pensare adesso andiamo a visitare una piccola chiesetta su una montagna che adesso è una chicca non si vede non si vede e niente non camminiamo andiamo la moliniera ciao 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 ciao